Nel corso dedicato alla content creation ci interrogheremo su cosa sia questa pratica. In italiano viene resa nella letteratura scientifica del caso la cura dei contenuti. Cosa si intende? Si intende la razionalizzazione di tutte le risorse online che noi adoperiamo o per noi o per gli studenti. In altre parole, succede a molti docenti di fornire ai ragazzi durante il corso dell'anno tantissimi link. O succede ai docenti di chiedere ai ragazzi di reperire un certo numero di link su un determinato argomento. Ecco, questi link molto spesso restano disordinati perché non hanno uno spazio di raccordo dove essere ordinati per argomento, per criterio, per tag, si dice, oppure per data. I siti che offrono la possibilità di fare content creation fanno proprio questo. Ci danno dei contenitori vuoti che noi riempiremo di risorse che sono altrove e che avremo modo di catalogare secondo criteri che noi sceglieremo. Questo è uno degli aspetti che oggi viene ritenuto fondamentale per chi utilizza la rete, quindi non solo per la scuola. Perché la rete è stimata essere una miniera di informazioni ma estremamente caotica, estremamente disordinata, perché chi carica contenuti spesso non si preoccupa di taggarli. Questa brutta parola, italianizzazione, tag, etichetta, si intende una etichettatura vera e propria dei contenuti. Quindi la content creation è la razionalizzazione di materiali, quindi non coincide con la produzione di contenuti, ma la cura di contenuti prodotti per lo più da altri. Si traduce essenzialmente in un processo di ordinamento, secondo una serie di criteri che noi sceglieremo, di tutta una serie di fonti online. Peraltro, oltre ad avere una importantissima funzione didattica, può avere anche una grande utilità per noi. In quanto tramite siti che offrono possibilità di fare content creation, noi potremmo dare ordine a quelle centinaia di articoli online che troviamo interessanti ma che non abbiamo tempo di leggere. Per questo motivo spesso ci sfuggono perché non abbiamo un luogo dove inserirli. Non è come razionalizzare i preferiti. I preferiti in genere catalogano dei siti, non degli articoli. Si può fare per esempio, si può inserire tra i preferiti il sito del ministero, miur.it, ma se ci interessa un bando che il ministero ha messo online una determinata data, non ci serve a nulla mettere tra i preferiti il sito del ministero, perché altrimenti in quel sito noi poi dovremo ricercare all'interno quella particolare pagina. Poi, la content creation è anche la pubblicazione, perché no, anche delle nostre fonti. Essenzialmente content creation significa curare contenuti già presenti, ma nulla esclude che questi contenuti possono essere anche nostri o da parte degli studenti. Perché usarla? Un motivo è essenzialmente questo. Insegnare l'ordine agli studenti significa anche mostrare l'ordine agli studenti, dare l'esempio in qualche modo. E quindi se vogliamo che il loro sforzo sia in qualche modo disciplinato, ordinato, è bene che il nostro a monte lo sia. E quindi fornire agli studenti uno spazio web, che può essere anche un blog, anche se il blog non nasce necessariamente con questa impostazione, significa far vedere agli studenti quanto il mare magnum dell'informazione su internet possa avere un criterio razionale. Poi un altro aspetto è questo, è anche tenere traccia dei contenuti. Alla fine dell'anno, a volte, molti docenti non riescono a tenere traccia di tutte le decine di risorse online che hanno fornito agli studenti. Tramite siti di content creation, che catturano questi articoli e li ordinano secondo criteri che noi scegliamo, noi abbiamo la tracciabilità per data o per contenuto di tutti i contenuti che abbiamo fornito via via agli studenti. E poi, non ultimo, content creation è anche semplificazione, perché all'interno di un sito che sceglieremo rifluiranno tutte le fonti che noi consultiamo. Quindi quel sito catturerà uno a uno le fonti che noi inseriremo per fare in modo di avere un solo contenitore per tanti contenuti. E come usare la content creation a scuola? Innanzitutto occorre selezionare le nostre fonti, che vuol dire avere presente quei 10, 15, 20 siti che noi consultiamo più o meno regolarmente. Poi bisogna scegliere un sito che offra il servizio, e ce ne sono di molti che l'offrono in modo completamente gratuito. Questi per noi saranno poi i siti di partenza, dove collocheremo al loro interno tutti gli articoli che mano a mano sceglieremo di catalogare. Poi è possibile, non è necessario, ma è possibile pubblicare una specie di bollettino ogni settimana, ogni mese, secondo una scadenza che noi preferiamo, per rendere noto quanto abbiamo, tra virgolette, curato in una unità di tempo. Quali sono i vantaggi? I vantaggi della content creation sono numerosissimi in ambito didattico e non solo. Innanzitutto una ricaduta trasversale è quella di far capire agli studenti cosa sia il concetto di fonte. Noi spesso siamo portati a credere che determinati articoli su internet abbiano una estrema trattazione. Invece, con un po' di pratica, si può vedere che molto spesso delle notizie hanno una sorta di fonte unica, che poi viene replicata tantissime volte, o leggermente modificata, ma da una sorta di archetipo alfa, iniziale, uguale per tutti. Questo è uno studio delle fonti, è vedere l'affidabilità di una fonte piuttosto che un'altra. Direttamente conseguente a questo argomento è anche il confronto, naturalmente, delle fonti online. Tramite questa pratica si possono confrontare siti e vedere quali dei due magari è più attendibile su un certo argomento. Un altro vantaggio, abbiamo detto, è tenere traccia di tutte le nostre attività e di tutti i materiali di volta in volta segnalati ai docenti, eventualmente, ma soprattutto agli studenti. E poi, l'altro grandissimo vantaggio, che si apprezza col tempo, è quello di avere un unico sito in cui raccogliere tutti i materiali più disparati, che provengono da centinaia o migliaia di siti diversi, e che dunque trovano in un unico contenitore una forma razionale e di ordine interno. Cosa impareremo nel corso? Innanzitutto a gestire un sito dedicato alla content curation, ce ne sono molti, molti peraltro anche dedicati proprio alla content curation scolastica, perché questo aspetto nasce, questa pratica nasce nell'ambito soprattutto giornalistico, perché negli ultimi anni, grazie anche a social network, c'è stata un'esplosione di fonti. Quindi, in molte testate giornalistiche, specie quelle più grandi, c'è chi si occupa unicamente di questo, di dare una razionalizzazione a tutto il flusso costante di informazioni. Poi impareremo anche a importare, quindi, dei siti, delle pagine, all'interno delle nostre pagine, quindi opereremo una specie di operazione di cattura. E poi, questo è l'aspetto forse più interessante, solleciteremo, tramite anche qui degli strumenti, ragazzi, al confronto delle varie fonti. Cosa è necessaria in questo caso? Indubbiamente una connessione a internet, qui non è possibile farne a meno. Un account presso un sito ad hoc, questi siti sono gratuiti, però richiedono quasi sempre un account specifico, che si crea in pochi istanti, semplicemente fornendo la propria mail e la propria password. E per quanto riguarda gli strumenti online utili allo scopo, un sito è scoop.it, questo denuncia anche un po' l'origine giornalistica di questa pratica. Un altro, molto bello, soprattutto nei dispositivi mobili, è Flipboard. Peraltro design didattico è presente su Flipboard, proprio come content curation. Per chi utilizza questa applicazione sullo smartphone o sul tablet è possibile cercare design didattico e trovare una rivista di content curation, proprio che rispecchia tutto quello che stiamo dicendo. Poi Google+, che è un social network di Google nato con l'intenzione di fare concorrenza Facebook, è concettualmente diverso da Facebook e ha, rispetto a questo scopo, anche delle funzionalità più avanzate. Numero di incontri, anche in questo caso parliamo di 6-9 ore, più indicate forse 9, per avere modo di vedere più strumenti e scegliere quindi quello più adatto, e quindi un numero di incontri che va da 3 a 4. Grazie a tutti.